buongiorno signora venisi buongiorno norino e luisella ditemi pure siccome sono stufa che norino mi fa mangiare tutti i giorni la pasta aglio e olio io sì tu l'ho convinto a venire qui nella gastronomia rosticeria sabusecca perché ho saputo che il cibo è ottimo fresco e preparato sempre con cura allora viene informato proprio bene o daniela ma lo sai cosa ci fa un cammello in un budino attraverso il dessert e invece il piatto preferito di mazzini sai qual è gli spaghetti alla carbonara marito mio senti una cosa ma perché stai dicendo tutte queste scemenze così la metto di buon umore ci fa lo sconto no guarda se la smetti di dire queste battute ti faccio lo sconto allora sto zitto daniela cosa ci proponi oggi alla gastronomia rosticeria sabusecca a carbonia lo chef remo pitalis ti aspetta insieme alla sua squadra per offrirti una vasta varietà di piatti dall'antipasto al dolce tipici della cucina sarda e non solo la gastronomia rosticeria friggitoria sabusecca offre anche servizi di catering e banchettistica per eventi come compleanni feste di laurea battesimi e cresime il servizio a domicilio è sempre gratuito e puoi prenotare anche su deliveroo quindi se ho capito bene è l'ideale anche per la disgrazia che ci è successa a casa e che disgrazia mio figlio muzio fa la crisi norino la crisi ma non è una disgrazia remo non ascoltarlo la crisi ma no ma le spese non preoccuparti con noi puoi star tranquillo anche da quel punto di vista oh luisa ma lo sai cos'è l'acetone è quel contimento che si usa per l'insalatone minorino con gli assaggi ti è tornato anche l'appetito è bene sono gratis è buone è buone è buone Grazie a tutti